buona giornata amici eccoci pronti alla rassegna stampa di fano tv oggi è martedì 23 aprile 2024 il tempo continua a essere perturbato c'è che ha comunque appreso alcuni mali di stagione come anche io insomma ho la voce un po' artefatta ma comunque andiamo avanti perché speriamo che nel weekend nel lungo weekend 25 aprile la situazione del tempo migliori bene cominciamo come sempre sfogliando l'almanacco del giorno ed ecco il santo che si festeggia oggi è un santo molto molto noto il cui nome è ancora molto attuale al giorno d'oggi ed è San Giorgio ebbene pochi sanno comunque che San Giorgio visse nel terzo secolo sotto l'imperatore Diocleziano era originario della Cappadocia e morì poi in Palestina era un soldato un soldato che si distinse per il suo valore raggiungendo anche il grado di capitano e il fatto che lo rese famoso e quanto avvenne nella città libica di Silene ebbene in questa città c'era una bestia mostruosa si dice un drago ma probabilmente era una belva feroce che esigeva per tenerlo buono esigeva il sacrificio di due pecore ogni giorno e la popolazione doveva ogni giorno contribuire a mantenere questo leone questa bestia non si sa quale fosse si dice un drago ecco perché San Giorgio è sempre raffigurato con un drago finché le pecore cominciarono a scarseggiare e allora si passò ai sacrifici umani e anche i giovanetti furono sacrificati alla belva finché toccò alla figlia del re Silene a questo punto intervenne Giorgio con le sue armi lottò contro il drago e finalmente lo vense e liberò la città di Silene da questa paura che probabilmente raffigura il male è un fatto ricordato dalla leggenda dalla leggenda aurea dove c'è appunto tutto un racconto per quanto riguarda tra leggenda e realtà la vita dei santi però alla fine Giorgio siccome era un cristiano finì sotto la persecuzione dell'imperatore Diocleziano e morì martirizzato fu decapitato questo è Giorgio è molto molto venerato in Inghilterra San Giorgio è uno dei santi eletti appunto nel Regno Unito vediamo ora le previsioni del tempo Ebbene ancora in stabilità atmosferica nelle Marche con possibilità di rovesci e temporali tra pomeriggio e sera sui settori culinari e costieri i venti sulle coste spireranno da nord ovest dall'entroterra da ovest e sud ovest le temperature sono al di sotto della media 8 la minima 14 la massima e ancora deve venire la temperatura primaverile e vediamo che il mare è particolarmente mosso mentre il sole è sorto questa mattina alle 6 e 11 e tramonterà alle 20 alle 20 esatte questo è poi quello che ci dice le rilevazioni atmosferiche le rilevazioni astronomiche e ad ora vediamo le pagine dei giornali che stamattina abbiamo davanti a noi il Corriere Adriatico vediamo la pagina di Fano si parla in modo particolare della ferrovia Fano Urbino e a risollevare l'argomento è il comitato del itinerario ciclistico che costeggia il metauro tra Fano e Urbino è un comitato assolutamente contrario alle previsioni regionali e anche nazionali che vorrebbero il ripristino della ferrovia ma quello su cui punta il comitato che è rappresentato da tre esponenti molto noti nella città di Fano abbiamo Leonardo Zan, Renzo Rovinelli ed Enrico Tosi i quali chiedono insistentemente alla Regione Marche di rendere noto lo studio di fattibilità che il governo ha commissionato alle ferrovie dello Stato con un milione di euro a cui si sono aggiunti anche 350 mila euro della Regione ebbene il comitato lo chiede alla Regione è possibile che un studio commissionato nel 2021, nel 2024 ancora non sia reso noto? la Regione è un po' tergiversa, dice sì ne abbiamo preso visione per sommi capi ma il piano ancora non è nelle nostre disponibilità ebbene questo non viene insomma non viene molto creduto dal comitato i quali pensano insomma che lo studio rilevi un giudizio negativo per il ripristino della tratta ferroviaria cosa che invece persegue la Regione e persegue il governo quindi per ragioni di trasparenza si chiede che questo studio venga reso noto per far sapere se veramente ci sono le possibilità del ripristino della ferrovia, del treno quindi un collegamento tra Fano, Urbino e poi anche attraverso Fermignano, Orte e Roma sarebbe veramente una linea diretta che eviterebbe il transito verso Falconara con tante tante ore che si perdono per arrivare alla Capitale ma a questo punto è un altro punto, un altro tentativo per così rendere e sapere che cosa ha deciso questo studio e quindi togliere finalmente un punto interrogativo che verte da tanto tanto tempo su questa tratta ferroviaria L'altro argomento di apertura del Corriere Adriatico riguarda il concorso per l'assunzione di addetti stampa da parte dell'amministrazione comunale giornalista per l'amministrazione dopo cinque anni sono stati selezionati quattro finalisti e beh in atto nel comune di Fano questa selezione erano 81 gli iscritti che si sono presentati un po' da tutta Italia se ne sono poi presentati effettivamente appena 19 e sul campo se ne sono ridotti a 16 alla prima selezione degli iscritti ne sono usciti quattro vediamo chi sono questi quattro sono abbastanza conosciuti in città la prima che ha raggiunto il punteggio più elevato è Agnusca Pambianchi professionista attualmente in forza all'agenzia Omnia ma da vent'anni attiva su svariati fronti lavorativi compreso quello del Consiglio regionale nello staff di Renato Claudio Minardi seguono Luigi Mancini professionista che collabora con l'edizione a Scolana del resto del Carlino e quindi in terza posizione Jacopo Frattini che in questi ultimi anni ha curato l'ufficio stampa dell'ente per conto dell'agenzia comunica in quarta posizione Aurora San Martano professionista che opera per l'agenzia Zarri ora di questi quattro se ne sceglieranno due che potrebbero aspirare all'incarico che il Comune appunto dà per l'andetto stampa probabilmente poi ne sarà assunto dice il giornale a tempo indeterminato una persona di queste la prima che sarà classificata di spalla abbiamo il resoconto di Expolea della mostra mercato dell'olio di oliva che si è svolta domenica scorsa al Pincio di Fano dove sono convenuti una trentina di produttori d'olio quelli che hanno raggiunto un livello di qualifica certificato dagli assaggiatori di olea particolarmente elevato insomma sono i migliori oli che si trovano in Italia ma anche all'estero perché sabato scorso il giorno prima sono stati premiati nella Pinacoteca di San Domenico i migliori oli che si sono presentati ai concorsi l'oro d'Italia e l'oro del Mediterraneo quindi sono intervenuti anche oli esteri perché ormai Fano è diventata un po' la capitale dell'olio di oliva grazie all'opera di promozione e soprattutto all'incarico professionale svolto dagli assaggiatori di olea sono tutti volontari ma hanno raggiunto veramente un grado di professionalità molto molto qualificato e il loro assaggio il loro giudizio viene richiesto da molte molte aziende che si pregiano poi di quanto hanno ottenuto veniamo alla cronaca veniamo alla cronaca e vediamo che ieri si è verificato un incidente purtroppo con esiti particolarmente gravi tra due biciclette tra due biciclette che si sono scontrate si sono toccate con i manubri nella pista ciclabile Trafano e Pesaro all'altezza di Gimarra scontro tra due bici sulla ciclabile girandola di ambulanze girandola di ambulanze perché in un primo tempo è intervenuta un'ambulanza senza medico a bordo ma poi la donna mentre l'uomo che ha stato coinvolto in questo incidente non ha riportato gravi conseguenze la donna invece è caduta a terra e dopo è svenuta e quindi è intervenuta una seconda ambulanza del 118 con il medico a bordo la donna è stata ricoverata all'ospedale di Pesaro e tutto questo un po' però ripone all'attualità grazie alla consigliera regionale Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle tutta la situazione della emergenza urgenza nella provincia di Pesaro con le ambulanze pronto soccorso e via dicendo insomma un problema che è difficile a risolversi e poi specialmente se ci si mette in mezzo anche i problemi di ordine pubblico come quello di una paziente che ha aggredito ancora una volta una infermiera poi ne parleremo perché i giornali ne danno ampio risalto la situazione si complica ancora ancora di più giriamo la pagina e siamo nella zona sportiva della trave sempre a Fano ebbene in questo caso esiste una piccola area degradata nell'ambito di questa zona sportiva che è molto molto bella che ora è in procinto di essere trasformata si tratta di realizzare un campo per il baseball a 5 al posto del vecchio pallone c'era un vecchio pallone che una tempesta ha abbattuto quindi era rimasta soltanto la piattaforma di cemento in degrado quindi un aspetto poco poco bello ed ora invece c'è una proposta affinché venga realizzato un campo da baseball a 5 ebbene è un piccolo baseball in miniatura in poca in sostanza il baseball il baseball a 5 riproduce le regole canoniche del baseball ma anziché mazze si utilizzano le mani la pallina in gomma e oltre alle misure sono ridotti anche è ridotto anche il numero dei giocatori 5 appunto quindi è una cosa più in miniatura e forse anche più adatta ai bambini più piccoli ed ora passiamo nell'entroterra siamo a San Costanzo si parla di politica le elezioni movimentano un po' anche i centri anche i piccoli centri San Costanzo non è un piccolo centro comunque ed ora vediamo che sale alla ribalta l'assessore Milena Volpe candidata a sindaco per uniti San Costanzo la signora Volpe è assessora ai servizi sociali e si candida appunto per questa lista dopo 5 anni con il sindaco dopo 5 anni da sindaco con Filippo Sorcinelli il mio arrivo repentino ha detto rappresenta una novità per tutti ma dice molto di chi sono forte senso di responsabilità coraggio e solidarietà sono appunto i punti di riferimento per questa nuova candidatura veniamo a San Lorenzo in campo per sport e scuole apre il nuovo Paracampus lavori chiusi in Via Dendi c'è la nuova palestra anche però senza l'inaugurazione quindi si va avanti tranquillamente e passiamo a Senigallia dove si parla di un nuovo evento che trova la collaborazione di note emittenti radio un'estate on air con Senigallia in jazz è un onore ospitare questo festival ebbene che cosa accade ieri in comune è stata presentata la prima edizione di Senigallia in jazz novità del cartellone estivo destinata a diventare un punto fermo nella programmazione estiva di Senigallia che cosa si tratta si tratta di un festival con la collaborazione di ben tre emittenti di carattere nazionale che poi sponsorizzeranno Senigallia ebbene si tratta di Radio Dimensione Suono che farà tappa il 21 e il 22 giugno con RDS Summer Festival e la terza sarà scusate con la seconda RDS Summer Festival e la terza sarà Radio 105 abbinata a X Master in programma dal 13 al 21 luglio quindi tre emittenti che daranno ampio risalto alle bellezze e alle iniziative di Senigallia e una promozione in più in ambito nazionale e vediamo anche la pagina di Pesaro che la pagina di Pesaro che sulle pagine regionali dedica alla politica perché un'intera pagina viene dedicata alle prossime elezioni europee ed si evidenzia il duello interno al Partito Democratico che si sta effettuando che si sta annunciando tra Alessia Morani e Matteo Ricci duello Morani-Ricci le europee usate come primarie per il Partito Democratico perché anche se non si crede alla possibile elezione è molto difficile che un candidato marchigiano sono stati pochi precedenti li abbiamo ricordati nella giornata di ieri Francesco Baldarelli e la Sbarbati che sono riusciti ad andare a Bruxelles ebbene anche se non sarà facile per uno di due Alessia Morani e Matteo Ricci arrivare in Europa questo potrebbe essere un inizio per scalare l'itinerario in salita verso il governatorato delle Marche come presidente della regione Marche quando ci saranno le elezioni regionali ebbene lo dice anche questo sottotitolo quando si afferma che il vero obiettivo è misurarsi per il ruolo di candidato governatore nel 2025 nel 2025 eccolo qua e poi abbiamo un po' tutte le valutazioni a favore della Morani a favore di Ricci c'è chi sostiene l'uno chi sostiene l'altro e le possibilità che l'uno o l'altro hanno di raggiungere il traguardo vediamo le pagine che riguardano i vediamo qui le strade e i marciapiedi che è un argomento che non manca mai sulle pagine dei giornali dopo specialmente le segnalazioni che gli albergatori di Pesaro hanno fatto per le aree degradate sulle lungomare ma anche nelle vicinanze degli alberghi strade marciapiedi interventi tampone anche in zona mare dopo le segnalazioni degli albergatori e residenti il comune stanzia fondi e si mette mano anche i marciapiedi di Viale della Vittoria che ospita il tratto urbano della statale 16 Viale della Vittoria e quel viale che appena si arriva al cavalcaferrovia di Pesaro si dilunga fino al curvone dopo il vecchio palazzo dello sport e dopo le segnalazioni di albergatori e residenti dunque si cerca di riparare anche questi marciapiedi che sono veramente degradati e pieni di buche ma contro il rischio di sanzioni vanno in aiuto gli ambulanti che cosa accade? Accade che nel parcheggio di San Decenzio il martedì ci vuole il disco orario molti non lo sanno quindi prendono le multe e allora gli ambulanti per cercare di non privarsi di questa clientela che per loro è preziosa ebbene avvertono gli ambulanti ci hanno messo un cartello ricordatevi che martedì ci vuole il disco orario non ci posso stare più di tanto e quindi non fatemi prendere le multe e quindi avvertono e poi se uno vuole insistere sono affari suoi ma intanto gli ambulanti fanno questo utile servizio nei confronti dei loro clienti e poi vediamo la pagina che riguarda quanto accaduto al pronto soccorso del San Salvatore dove una donna ha veramente fatto la matti ha aggredito una infermiera se l'è presa poi con altre persone addirittura si è rivoltata contro un carabiniere ha fatto veramente era molto molto esagitata infermiera aggredita la donna è ai domiciliari il giudice ha convalidato l'arresto ai domiciliari il dirigente è storti episodi sempre più frequenti purtroppo e qui si parla di Far West al pronto soccorso ebbene la donna voleva aveva accompagnato il suo compagno al pronto soccorso poi voleva andare via i beni si hanno detto guarda non è il caso aspettiamo almeno l'esito degli esami la donna a questo punto si è rivoltata e ha aggredito tutti coloro che aveva intorno Belloni Belloni ha una sua squadra una sua squadra per quanto riguarda le elezioni amministrative una squadra quasi pronta e pensateci anche Alessandro Moneti quella persona quel giovane disabile che ha lottato per la sua situazione abitativa tra i nomi già noti i consiglieri comunali Sergio Castellani e Giorgia Leonardi il conosciutissimo Massimiliano Santini ma anche figure come Alessandro Moneti il giovane agricoltore disabile noto per la sua battaglia contro lo sfratto della sua famiglia ed è la lista ci sono poi qui anche tutti i nomi che fa capo appunto all'assessore Belloni azioni intanto converge su Lanzi che è il candidato sindaco per il centrodestra e Pesaro svolta all'interno della lista civica i nomi di Elena Fabri e di Giovanni Amati sono nomi molto noti e anche fuori di Pesaro ed ora giriamo la pagina e parliamo di questo articolo Pesaro inaugurerà una statua a Pavarotti sarà installata davanti al teatro Rossini quel teatro che lui stesso ha inaugurato dopo tanti anni che sono stati necessari per il restauro nel 1980 e questa è una statua che evidenzia il tributo di amore di solidarietà di apprezzamento che la città di Rossini ha sempre nutrito verso questo cantante meraviglioso dell'opera lirica c'è un'attesa per la posizione della scultura a grandezza naturale realizzata in bronzo con la tecnica della fusione a cera persa che omagerà Luciano Bavarotti la sistemazione della statua sarà sabato 27 aprile proprio davanti appunto al teatro in linea con la fontana quindi anche una visione artistica della città passiamo adesso al resto del Carlino l'apertura è dedicata ad una intervista ad un personaggio che si è distinto nelle sedute del Consiglio Comunale dedicate al piano regolatore ed è Agnese Giacomoni che alla fine si è dimessa dal ruolo di capogruppo del suo partito e sembra che non si ripresenterà nelle prossime elezioni Agnese boccia il partito democratico e annuncia che la vittoria alle amministrative spetterà a Luca Serfilippi quindi l'avversario del centro-sinistra leader del centro-destra chi vincerà le elezioni Serfilippi al secondo turno dice Agnese Giacomoni insomma devo dire che le spara grosse contro il suo partito perché è rimasta molto molto delusa dall'atteggiamento dei suoi compagni in merito alle decisioni in modo particolare assunte nei confronti del ex zuccherificio Giacomoni a ruota libera dopo le dimissioni da capogruppo inaccettabile che i miei compagni snobbino i quattro gatti così come sono stati definiti della zona dell'ex zuccherificio la previsione Serfilippi vincerà le elezioni al secondo turno ha detto e beh ormai è completamente fuori dell'ottica della linea politica del suo partito e quindi coerentemente si è dimessa che fine ingloriosa per l'area sarà un diluvio di cemento così i progressisti commentano quanto è avvenuto seppure il loro leader Stefano Marchigiani alla fine ha approvato il piano regolatore però quello che intendono fare i progressisti è poi rimettere mano alla situazione dell'ex zuccherificio mitigando tutto quanto potrà portare una turbativa all'ambiente e soprattutto alla vivibilità di coloro che risiedono nei pressi dell'area che è stata contestata ore 8 lezione di umido piove alla Montesi e qui è un'altra scuola che è in degrado vi ricordate la gentile del porto con la caduta di parte del soffitto all'interno di un'aula ora c'è anche un problema di umidità alla Montesi che deve essere subito risolto procediamo in fretta siamo ormai in conclusione voglio segnalarvi il problema delle microalghe e pannelli e nasce Lab Energetico a San Lorenzo in campo dove Nereco e Daset che società fanesi di ingegneria intervengono e poi ancora Museo del Bali in orbita per i suoi vent'anni un programma extra nel prossimo ponte nel miglietto unico a 12 euro ebbene ci sarà l'ingresso e tante tante attrazioni e all'interno si pranza con prodotti a chilometro zero quindi una bella visita nell'entroterra e visitare il Museo del Bali è sempre affascinante sia per i grandi che per i bambini e con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre a domani alle 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto